Ciao e bentornato, nei video di oggi andremo a montare questo kit per porta scorrevole. Se vuoi replicare il progetto, in descrizione ti lascio il link dei componenti che ho acquistato io. Se ancora non l'hai fatto e contenuti dei miei video e sono di autogradimento ti invito ad iscriverti e a lasciare un bel pollicione in su. Se hai qualche domanda scrivimelo qui sotto nei commenti. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Purtroppo per una questione di privacy non ho effettuato riprese del montaggio del binario, ma seguendo le istruzioni risulta un'operazione molto semplice. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere lasciando un bel pollicione in su, per la non l'hai fatto iscriviti, commenta e condividi questo video sui tuoi social. Ciao!